ciao a tutti e bentornati sul canale io sono stefania in questo video tutorial vi mostro come realizzare una twix bar fatta in casa di solito per la festività dei morti si usa a realizzare un torrone chiamato il torrone dei morti io invece ho pensato di preparare una twix bar facendomi ispirare proprio dalle famose bar di cioccolato ovviamente la mia versione è una versione lactose free e dopo la sigla e vi lascio gli ingredienti per questa ricetta ci occorrono uno stampo da plum cake della salsa mou biscotti secchi e cioccolato fuso fondente se come me utilizzate uno stampo in metallo dovete foderarlo con della carta da forno così come vi mostro in alto a destra dello schermo se invece utilizzate uno stampo in silicone questa procedura ovviamente non va fatta verso all'interno dello stampo il cioccolato fuso facendolo bene aderire sia al fondo che alle pareti sono abbastanza generosa con il cioccolato perché voglio che lo strato sia bello spesso dopodiché faccio riposare in freezer per 5 10 minuti trascorso questo tempo verso la salsa mou sulla barretta ottenuta ecco spargo per tutto il perimetro adagio sulla salsa mou i biscotti negli angoli più stretti ovviamente i biscotti vanno spezzettati ricopro i biscotti e la salsa mou con altro cioccolato dopo riverso altra salsa mou su questo strato di cioccolato senza averlo fatto riposare in freezer e aggiungo altri biscotti a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tra scorsi i 15 minuti rimuovo la mia barretta dal freezer e ovviamente devo stare attenta a rimuovere tutta la carta da forno, non lasciandone neanche un pezzetto. La dispongo su un bel vassoio e procedo con il taglio. Perfetta! Ci sono tutti gli strati di caramello e di biscotto, proprio come nella barretta originale. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto! Non mi resta che augurarvi buon Halloween! Vi aspetto! Vi aspetto! Vi aspetto! Vi aspetto! Vi aspetto! Vi aspetto!